Matteo Martini autore della rete momentanea del pareggio della Scandici avete giocato un'ottima partita, direi a lunghi tratti avete anche dominato nel gioco però purtroppo avete portato zero punti a casa Ci manca ultimamente la finalizzazione sottoporta perché siamo un po' sfiduciati un po' dei risultati, si gioca bene ma non otteniamo quello che meritiamo la sfortuna è un po' dalla nostra parte e per tirarsi su dobbiamo continuare su questa strada perché è quella giusta, perché l'occasione l'abbiamo se non avessimo occasioni sarebbe più un problema, però siamo sulla strada giusta Ci sono stati due gol eccezionali, sia la rete tua nel primo tempo che quella di Simone Del Nero nella ripresa due gol importanti, diciamo simili anche per dinamica Sì, secondo me il suo come coefficiente di difficoltà è più difficile è una palla di prima, di sinistro, è un signor gol è bravo lui, è bravo la Massese, ha una portata a casa tre punti meritate o no, sono stati bravi Il vostro campionato per adesso è leggermente deficitario però io penso che se continuate a giocare così non avrete problemi ad uscire dalla zona diciamo chiamiamola calda Sì, come ho detto prima abbiamo un buon gioco ci manca sempre l'ultimo tocco per buttarla dentro una zampata o qualcosa per il resto va bene così, la strada è quella giusta come ho detto prima e va bene così, le occasioni ci sanno e dobbiamo avere un pizzio più di cattiva agonistica e buttare dentro la palla Io parlando con il vostro allenatore ho individuato in Bartocini il migliore della vostra squadra per contro direi un po' deludente Crocetti sei d'accordo? Non so se gli manca ancora la condizione ora non ha giocato l'ultima partita perché ha squalificato un po' l'età si fa sentire però va bene, va bene così anche l'occasione ce l'ha l'occasione ce l'ha sa lui come sfruttare al meglio nelle prossime partite si spera al meglio perché così ci danno mano Il tuo obiettivo e il numero di reti per questa stagione? Altri due gol dai altri due gol, non fatti due si spera altri due dai Quattro Quattro dai Quattro totali Ok, in bocca al lupo Grazie Ciao, grazie